La conosco bene, siamo amici, ci sentiamo spesso, è un'amicizia giovane, nel senso che io l'ho conosciuta poco tempo, qualche mese prima di proporre e di scrivere questo libro e quindi saranno 4-5 anni che ci conosciamo, ma siamo diventati subito amici facendo questo lavoro e è un'amicizia che poi è rimasta. Perfetto, sul tema che sarà affrontato, qualche considerazione poi dopo chiaramente lei l'amplirà nel corso di questo pomeriggio al Teatro San Marco? A cominciare dal settembre 1938 in Italia sono state emanate le leggi razziali che hanno da subito impedito ai bambini di andare a scuola, agli insegnanti di insegnare a scuola e poi progressivamente hanno portato gli ebrei ad essere esclusi da tutto, da tutto, fin ad essere anche fisicamente eliminati. Benissimo. E che corrispondenza sta avendo? Perché sicuramente lei ha avuto altri incontri con gli studenti, cioè l'interesse che sta ricevendo come feedback da questa pubblicazione. Beh, questo tema è un tema che i ragazzi, che tanti ragazzi conoscono da tanto tempo perché sono più di 30 anni che Liliana Segre va a portare nelle scuole la sua testimonianza e i ragazzi capiscono, generalmente parlando capiscono di che cosa si parla.